Ecco la corsa in collina anche per la categoria allievi, ecco Guido, Gabriele, Riccardo, Andrea, Nicola, Alessandro, Karan, Pitbull, Lorenzo, ecco anche Teddy il capitano, Alessio, Lele, Matteo, in ultimo il mister con Michele, Michele, tenta di superarlo, scorrettezza, ma io come giudice un giro in più da solo perché, come discempio, campioni? Sì, campioni, quest'anno ce la faremo, aspetta. Ecco sono pronti per fare un altro giro, sempre Guido, in testa, dopo c'è Gabriele, il suo primo allenamento dopo le vacanze estive, Riccardo, Andrea, arriva Karan, Karan, nonostante i 35 giri di ieri sul campo è sempre scattante, ecco Alessio, il mister sta sotto, adesso vi faccio una serie di foto.